Vi posso dire, da quello che ricordo, questa stagione di Monogatari che dura un totale di 26 episodi, che poi in realtà mi sa che non sono 26 perché all'interno dei 26 episodi ce ne stanno alcuni che sono dei recap, magari voi in chat mi potrete corregge, però diciamo che su 26 episodi mi sa che addirittura 4 episodi potrebbero essere di recap, se non ricordo male. Comunque su 26 episodi per un totale di quanti archi narrativi, 4 archi, 5 archi narrativi, dovrebbe essere la stagione migliore di Monogatari, questa qua, rispetto a tutte le altre che abbiamo avuto fino ad ora, tranne vabbè Kizu, Kizu è inarrivabile, ma questa dovrebbe essere la stagione migliore con più colpi di scena, con più archi narrativi belli, quindi insomma preparatevi a vedere robe belle, vedere robe belle sicuramente. Gli avevo dato un 9 a questa stagione, non ricordo se avevo dato di più ad Owari Monogatari, però non ne sono sicuro, mi sa di no, penso che questa qua sia la migliore, e quindi sì, ho un bel ricordo di questa stagione, anche se, anche se vi devo dire che se adesso vi dovessi riassumere cosa succede in questa stagione, non ve lo so quasi dire. Cioè, adesso me lo sono ricordato giusto, grazie a questa Key Visual Spoiler che abbiamo visto, mi sono ricordato qualche cosina, ma se avessi tolto la Key Visual Spoiler e, insomma, vi avessi dovuto dire cosa mi ricordavo di questa stagione senza aver visto niente di niente, praticamente un cazzo. Cioè, niente, non mi ricordavo niente, se non Nadeko. Mi ricordavo giusto Nadeko. Cioè, l'arco narrativo suo me lo ricordavo, ma tutto il resto, senza aver visto qualcosina prima, non mi ricordavo niente. Ti ricordi la merda? Ma che la merda? Ma è un arco bellissimo quello di Nadeko, ma no, ma non è vero, dai. Anzi, probabilmente mi ricordo l'arco di Nadeko perché probabilmente è il migliore di questa stagione, quello che mi è rimasto più impresso. Allora, parliamo un po' di questo primo arco di Monogatari Second Season, di Neko Monogatari White, praticamente. Allora, vi devo dire, ti devo dire, mi è piaciuto. Mi è piaciuto molto più di quanto pensassi questo arco qua. Mi aspettavo molto di peggio, per quanto riguarda questo arco narrativo qua, perché dopo l'arco che abbiamo avuto domenica su Anekawa, dicevo, no, vabbè, ma dai, un'altra volta Anekawa, che due coglioni. E invece mi devo totalmente ricredere, perché questo arco qua, a differenza di Neko Monogatari Black, che, mo, andiamo, Neko Monogatari Black, che alla fine, se ci pensate, erano delle ripetizioni di cose che sapevamo già. Cioè, alla fine, Neko Monogatari Black è ambientato dopo gli eventi di Kizu Monogatari. Quindi sono cose che ci vengono raccontate in Bake Monogatari, che noi già conosciamo. Alla fine, anche il personaggio di Anekawa è tale e quale a quello che conoscevamo già. Non ci raccontano niente di nuovo. È praticamente una... sono quattro episodi in cui praticamente ripetono dei fatti, o comunque ci fanno vedere dei fatti che noi comunque già conoscevamo. Quindi, sì, non mi è piaciuto molto come arco. Però, dicevo, vabbè, oggi, dopo che abbiamo visto Neko Monogatari e dopo che di recente abbiamo visto Kizu, ci dobbiamo sorbire un'altra cosa su Anekawa, che due coglioni. Quindi, insomma, mi aspettavo una roba veramente noiosa, veramente pesante. Che invece così non è stato, perché questo arco, devo dire, mi è garbato. Più che altro grazie agli ultimi due episodi. Gli ultimi due episodi l'hanno sicuramente fatto riprendere. I primi episodi non è che fossero incredibili, nel senso, molto lenti, molto tranquilli. Fanno comunque capire meglio il comportamento di Anekawa e approfondiscono un po' il rapporto che hanno lei e Senjogara, i primi due episodi. Insomma, tra la doccia insieme, lei che si preoccupa perché Anekawa era andata a vivere da sola nella scuola abbandonata. Anche la parte in cui dormono, nella stessa casa e tutto quanto. Diciamo che i primi due barra tre episodi sono un po' di introduzione. Quando ancora non sappiamo chi è la tigre, da cosa è stata originata e tutto quanto. Poi dal quarto episodio in poi, intanto volevo anche andarmi a rivedere il terzo di episodio per sempre farmi un recappino di quello che è successo. Nel terzo di episodio, ah, conosciamo Gaen, mi pare. Arriva Gaen, sì, che comunque è un personaggio importante. E cosa? Anekawa va a finire a dormire a casa di Araragi. Che Araragi in questi giorni non ci sta perché non si sa il motivo per cui Araragi non c'è. Non si sa, dicono che potrebbe essere collegato a Maioi. Poi in un episodio è pure stata chiamata Kanbaru. Quindi sono successe delle cose con Kanbaru barra Maioi, forse. Ma, insomma, per adesso non lo sappiamo. Alla fine Araragi ritorna solo dopo qualche giorno che se ne stava da solo. Per, appunto, salvare Anekawa nel quarto e quinto episodio. E poi, appunto, arriviamo in realtà nel quarto episodio che conosciamo Gaen. Allora, perché vi dico che quando viene fatta vedere Gaen, ma anche quando Shinobu dice, fa quel discorso sul fatto di Kanbaru, dice, probabilmente Araragi vuole incontrarsi con Kanbaru non per la scimmia ma per via della sua progenie, è perché, se vi ricordate, Gaen è collegata a Kanbaru. In Nise Monogatari l'hanno detto, l'ha detto Kaiki, quando era andato a cercare... Quando Kaiki l'abbiamo incontrato per la prima volta che stava davanti a casa di Kanbaru, ha detto, ero venuto per vedere la progenie di Gaen. Quindi, insomma, sì, avete capito, insomma, qual è la situazione. E questo cosa potrebbe voler significare? Che quindi Araragi è entrato direttamente in contatto con Gaen, che Episod è stato chiamato per occuparsi di dei vampiri e magari quel vampiro è proprio Araragi, perché, parliamoci chiaro, di vampiri ce ne sono pochi. Cioè, è un tipo di anomalia abbastanza rara, dato che non si tratta di Shinobu. Potrebbe essere che Gaen e questo Episod sono venuti qui proprio per occuparsi di Araragi o di qualcosa che riguardava Araragi. A parte questo, comunque, ci viene presentato appunto questo personaggio di Gaen, che è una parente di Kanbaru, che è comunque un personaggio interessante. È la senpai di Oshinomeme, quindi la studiavano nella stessa università, ed era una più grande di lui, semplicemente una senpai. Dovrebbe, da come si presenta, sembra abbastanza cazzuta, anche per il fatto che sa qualunque cosa. Lei dice, a differenza di Anekawa, che sa solo quello che sa, Gaen dice che sa tutto, lei sa ogni cosa. Infatti è a conoscenza di tutto quello che riguarda la situazione di Anekawa e riesce anche ad indirizzarla, come dicevate in chat, verso quello che avrebbe dovuto fare per poi scoprire che la tigre era stata originata da lei, dall'invidia e tutto quanto. Quindi, sì, interessante anche questo incontro con Gaen. E poi arriviamo comunque all'ultimo episodio, che è sicuramente la parte più bella quando scopriamo che la tigre è stata generata dall'invidia di Anekawa, così come il gatto era stato, non proprio originato, ma era stato attirato e comunque fungeva come valvola di sfogo per lo stress di Anekawa. Quindi Anekawa ha sempre vissuto la sua vita in questo modo molto apatico, insomma, molto strano, facendosi, accettando tutto quello che succedeva, non lamentandosi mai, perché alla fine comunque se c'erano dei sentimenti troppo negativi o delle cose che non le andavano troppo a genio, come dire, queste cose le espelleva dal suo corpo, queste emozioni negative proprio in qualche modo se ne liberava, continuando in questa stasi perenne, in questo continuare a vivere in maniera molto... non so neanche come definirlo, proprio galleggiando, cioè rispettando le regole, comportandosi bene, senza mai... mangiando il cibo non... non salato, cioè addirittura il cibo insipido... come si dice? Qual è il contrario di non condito? Cioè, il cibo è insipido, ma insomma non condendo il cibo, perché è proprio una vita totalmente piatta, priva di sapore, non so come altro posso definirla. E quindi, sì, è bello il modo comunque in cui è riuscito ad uscire da questo loop, da questa situazione in cui stava, si è resa conto grazie a se stessa, ma anche grazie a Senjogara e a... principalmente secondo me grazie a Senjogara, che gli ha fatto anche un po' aprire gli occhi in questo arco narrativo, che in realtà lei non deve sopportare tutto questo, cioè non deve continuare a comportarsi seguendo le regole o vivendo in questa maniera molto passiva, ma può anche vivere in maniera più diretta, cioè esprimendo le sue emozioni, dicendo quello che vuole fare. Infatti nel finale, quando chiede ai genitori in maniera diretta ma guardate, io vorrei avere una camera, i genitori una stanza, i genitori gliela danno senza problemi. Per non parlare poi del fatto anche della dichiarazione tra lei e Dallaraghi nel finale, molto bella, che vabbè, era palese, ma ha voluto fare questa dichiarazione ufficialmente perché si è resa conto che non gliel'aveva mai detto Dallaraghi e questo è quanto, leggiamo un po' la chat. Finalmente essendo se stessa non si accontenta. Esatto, più che altro, sapete, vorrei chiedervi una cosa, ma secondo voi come mai Anekawa fino ad ora si è limitata? Cioè perché fino ad ora ha contenuto l'essere se stessa per, come dire, per fare questa figura che rispetta le regole, che fa sempre quello che gli viene detto, che non si lamenta mai? è una cosa collegata ai genitori? Perché lei vuole, voleva essere accettata dopo che i suoi genitori tipo sono morti, mi pare, voleva essere accettata dai nuovi genitori, voleva avere una famiglia e quindi credeva che per fare questa cosa, per ottenere questa cosa, doveva comportarsi in questo modo? Può essere questo il motivo? Sì, un bellissimo finale, sono d'accordo, sono d'accordo. Fisce proprio il suo percorso di evoluzione, da Black a White ti fa vedere come risolve i suoi problemi, sì. È voluto che l'animale di Anekawa è il gatto che si affeziona di solito alle abitazioni piuttosto che ai padroni, che si affeziona alle abitazioni. Potrebbe essere, sì, potrebbe essere. C'è anche lui che deve scaricare, vabbè. Gaen è stata dura, ma alla fine le ha detto esattamente cosa fare con la questione dell'invidia. Sì, le ha detto in maniera non molto diretta, però alla fine Gaen ha avuto un ruolo comunque importante, cioè l'ha aiutata da Anekawa. In effetti il gatto non è stato generato, ma ha modificato. Sì, sì, non è stato generato da Anekawa, è stato più adattato in qualche modo. Addirittura mutato un'anomalia in genere debole per fare in modo di sfogare il più stress possibile. Sì, sì, sì. Se avesse iniziato a lamentarsi della sua situazione probabilmente l'avrebbero pestata dalla mattina alla sera. Addirittura? Cioè dice a questo... Ma in realtà guarda che io da come l'ho intuito il comportamento dei genitori, dei nuovi genitori nei confronti di Anekawa, è stato perché lei si comportava in modo strano. Cioè è stato perché lei era troppo perfetta, gli faceva sembrare delle nullità, cioè perché lei in primo luogo si comportava in maniera troppo strana per loro. Quindi secondo me se fosse stata diretta fin da subito Anekawa, cioè se si fosse comportata come ragazza normale fin da subito, io credo che tutta questa situazione non si sarebbe verificata. È una cosa che ha detto anche Oshino, se ci pensate, eh. Cioè Oshino, se vi ricordate, nell'arco di Black Anekawa che abbiamo visto domenica, mi pare che ha proprio dato la colpa ad Anekawa. Aveva proprio detto che... Ma siamo sicuri che è colpa dei genitori che l'hanno picchiata? Guarda che, cioè... Ha, come dire, ha intavolato questo discorso che forse in realtà il motivo è proprio per colpa di Anekawa che si è comportata in questo modo, che i genitori dopo 12 anni hanno sbroccato perché hanno una figlia molto passiva, cioè che è particolare, cioè mi rendo conto che è particolare, ma credo che ci sia un fondo di verità in tutto questo, cioè che è anche colpa di Anekawa. E quindi, e quindi, questa è la situazione. Vi devo dire, l'arco mi è piaciuto, a livello di cose importanti, possiamo dire come per riassumere, abbiamo avuto lo sviluppo del personaggio di Anekawa, che adesso è diventato un personaggio sicuramente migliore di quello che era in Neko Monogatari, o comunque è tornata a se stessa. Diciamo che Anekawa è tornata a se stessa. L'approfondimento con la relazione tra lei e Senjogara, che sono molto amiche, abbiamo visto che Senjogara importa molto di Anekawa, l'introduzione del personaggio di Gaen, che appunto è una parente di Kanbaru, poi c'è la questione di Araragi, che in realtà era comunque interessante durante tutti gli episodi avere questo alone di mistero, non capire che fine avesse fatto Araragi, dove era andato e tutto quanto, però vabbè, non è troppo rilevante. E poi, in realtà questo, principalmente questo, non ci sono altre cose. È tutto molto incentrato su Anekawa, ma a differenza di Neko Monogatari Black, che era un po' palloso, in questo caso l'hanno veramente gestita molto bene, se non forse per i primi episodi, che erano forse un po' pesanti, i primi due episodi un po' pesantucci. Quindi, riassumendo, che voto diamo? Che voto diamo? Di sicuro devo dare più di Neko Monogatari Black, perché Neko Monogatari Black era un po' una palla, infatti mi sa che gli ho dato 8 o meno, vediamo un po'. Forse ero pure indeciso se dargli 7 e mezzo, ma alla fine, ecco, alla fine gli ho dato 8 o meno, perché mi ricordo, gli volevo dare 7 e mezzo, ma alla fine gli ho dato 8 o meno, perché c'era Anekawa versione gatto, molto figa, quindi quello 0,25 in più se l'è beccato. A questo arco narrativo, io direi, senza premiarlo troppo, perché comunque non è che sia stato la perfezione, al mezzo voto in più. Mezzo voto in più ci può stare, 8 e mezzo? No. Cioè, per carità, 8 e mezzo glielo darei tranquillamente agli ultimi due episodi, non dico 9, ma 8 e mezzo, 9 meno sicuramente, però i primi tre episodi sono stati un po' così, quindi io mi fermerei su un 8 o più, onestissimo. Ma veramente, dopo questo arco qua, posso dirvi il personaggio di Anekawa molto meglio di come me lo ricordassi, cioè questo, diciamo tutte le cose che ci hanno detto in merito al suo comportamento, sia prima, ma veramente la roba che mangiava, i cibi non conditi, è una cosa che sembra di poco conto, ma fanno proprio capire come era il suo personaggio, cioè lei non sentiva neanche il bisogno di mettere il sale nell'insalata, cioè di mettere ma che anche il sale nella pasta per dire, cioè lei mangiava le cose così come erano, se le faceva andare bene così come gliele, ma neanche gliele dava qualcuno, perché comunque cucinava da sola, però c'è proprio bello il modo in cui hanno trattato sia il suo personaggio prima che adesso che è migliorata, cioè che è ritornata a se stessa, quindi bello, bello. Almeno 8 e mezzo, 8 più, dai, 8 più va bene, sì no era molto triste come cosa, ma infatti ma dai, ma anche solo il fatto che è andata da sola in una cosa abbandonata, cioè è andata da sola per una notte in quella, nella scuola abbandonata, la dice lunga su come cazzo ragionava, cioè era veramente in una situazione molto critica Negawa, e bastava fossero nutrienti, esattamente come diceva delle banane, cioè lei, l'importante era nutrirsi, era proprio tipo un robot, cioè come lo possiamo definire il comportamento di Negawa, sembrava una sorta di automa, cioè devo fare questo, devo studiare, devo rispettare le regole, devo mangiare le cose nutrienti, non mi devo lamentare, non mi serve, tipo il robottino, cioè era lo stesso livello del robottino del primo episodio, sì un NPC, veramente, o forse addirittura il robottino aveva uno scopo più utile di Negawa, cioè il robottino alla fine puliva per terra, tornava alla sua stazione di ricarica e faceva quello che doveva fare, Negawa neanche sapeva perché stava facendo quello che doveva, quello che faceva, cioè perché viveva, non aveva proprio uno scopo di vita, quindi sì il robottino, decisamente più utile di, uno scopo migliore di Negawa. I genitori erano solo un po' indifferenti, anche tra loro vivevano, vivevano delle vite indipendenti, infatti hanno anche detto che i genitori si cucinavano per conto proprio le cose, con set di pentole e cuociriso per ogni membro della famiglia, lei semplicemente non si è mai lamentata né intromessa nelle loro vite. Sì, chiaro, chiaro. Non mi ricordo nello specifico cosa succede, diamo per scontato che questo arco che vedremo oggi sarà collegato agli eventi che Araragi ha svolto con Mayoi, mentre Anekawa e Senjogara stavano a fare le sforbiciate a casa di Senjogara. Questo penso che sia quello che è successo, cioè i giorni in cui Araragi è scomparso, all'inizio di questa second season, probabilmente sono cose riguardanti Mayoi, che adesso andremo a scoprire cosa sono. Quindi io credo che l'arco che vedremo adesso sono fatti del passato. È un prequel rispetto agli eventi che abbiamo visto la scorsa volta, cioè rispetto a come abbiamo finito la scorsa volta. Torniamo un attimo indietro nel tempo, mettiamola così. E basta, non mi aspetto altro. Non mi ricordo se era un arco che mi era piaciuto tanto tanto, questo qua di Mayoi. Mi aspetto meglio di Anekawa, posso dirvi. Mi aspetto che sarà una roba meglio di Anekawa, ma non lo so, non lo so. Perché anche l'arco di Anekawa non me lo ricordavo ed è stato molto bello. Quindi chi può saperlo, chi può saperlo. Comunque, l'arco di Mayoi lo zombie, praticamente. Allora, posso dirvi i primi due episodi... Sarà che stasera sono un po' più stanco del normale, ma i primi due episodi mi avevano... Quando, insomma, nel terzo episodio avviene la rivelazione di cosa è successo in questo arco, i primi due episodi mi avevano un pochino annoiato. Cioè, non lo so, non ero troppo, troppo, troppo preso, anche perché in realtà un pochino mi ricordavo quello che succedeva. Posso dirvi però due cose. Non mi ricordavo minimamente che incontravamo lei in questo primo episodio di questo arco. Cioè, è arrivata dal nulla, ci viene presentata come una compagna di scuola, non di classe, di scuola, di Araragi, che a quanto pare Araragi conosce, o non so se questa qua in realtà è stata la loro prima interazione, ma da come parlavano sembrava che si conoscessero. E molto particolare il discorso che si sono fatti. Posso dirvi, per quelli di voi che non conoscono Monogatari, questo è un personaggio leggermente importante che si vedrà nelle prossime stagioni. Poi non mi ricordavo neanche che ci fosse Ononoki, che non ho ben capito, nel senso, cosa ha fatto. Sì, in realtà ha messo, come dire, la pulce nell'orecchio di Araragi per quanto riguarda il discorso di Maioi è viva, è morta, come mai rimane un fantasma? Insomma, gli ha messo questo dubbio e probabilmente ha fatto venire lei l'idea ad Araragi di provare a salvarla a Maioi. Quindi sì, in realtà il primo episodio è abbastanza easy, ci sta la parte in cui torna indietro nel tempo per i compiti delle vacanze, che è veramente un po' eccessivo, se posso permettermi. In tutto questo mi chiederei che fine aveva fatto Maioi, sapete? Cioè, l'unica cosa che non è stata chiarita è Maioi aveva lasciato lo zaino a casa di Araragi, ma dove era andata? Perché non si trovava? Che fine aveva fatto? Era semplicemente scomparsa e basta? Cioè, era andata a farsi i cazzi suoi? O era proprio tipo morta, defunta? Cioè, secondo voi che fine aveva fatto? Ok, Onoki era stata chiamata per un lavoro e non dice più con espressione sua dente, che poi in realtà nella versione che avevo visto io anni fa, che è questa qui che state vedendo adesso, che non è del fansub che abbiamo appena visto, non dice con espressione sua dente, ma dice con sguardo pacato. Però vabbè. Ah, maioi stava cercando Araragi. Si stavano cercando a vicenda, capisco. Comunque sì, primo episodio e anche secondo episodio, vi devo dire, niente di particolarmente incredibile, nel senso, figa la cosa dei viaggi nel tempo. Cioè, di solito, quando viene, quando si aggiunge questo discorso dei viaggi nel tempo, è sempre comunque una roba interessante. E bello, vi devo dire, il secondo episodio, bello comunque per il fatto che hanno rivisto questi personaggi da bambini. Soprattutto Anekawa, Araragi, cioè, è stato carino rivedere, però non si è vista Senjio Kara, perché a quanto pare non ce n'è bisogno, perché basta e avanza Anekawa in questo caso. Comunque sì, in realtà, il secondo episodio è abbastanza easy, loro che cercano, maioi la trovano, la salvano, e finisce così, e poi dal terzo c'è il bordello. Se ve la devo dire tutta, secondo me, questo arco narrativo necessitava di un episodio in più. Cioè, proprio finito il terzo episodio, che è il terzo è quello là in cui si scopre tutto, loro arrivano nel futuro dove è tutto distrutto, il bordello e tutto quanto, incontrano nel finale la maioi versione, si scopre che Shinob ha distrutto il mondo, nel finale incontrano, dopo aver fatto i fuochi d'artificio, la maioi versione cresciuta. Cioè, in questo punto, tra me e me, pensavo, ma com'è possibile che finisce solamente tra un episodio? Non direi che è un arco importantissimo questo, perché alla fine comunque tutto si risolve in un nulla di fatto, perché questa qua è un'altra linea alternativa, cioè, dal punto di vista della storia non succede praticamente niente. La cosa forse più rilevante che succede è che il rapporto tra Shinobo e Tararagi si solidifica molto, cioè, diventano, risolvono le ultime problematiche, le ultime diatribe che avevano da risolvere e diventano molto più legati dopo questo arco narrativo, sicuramente. Però, ripeto, non so voi, ma secondo me se fosse stato da cinque episodi anziché da quattro episodi forse l'avrei apprezzato di più. Mi è sembrato che questo incontro con Shinobo, con la Shinobo cresciuta, sia avvenuto forse un po' troppo presto e... non lo so, sarebbe stato bello, ci hanno parlato anche di Kaiki, Oshino e quella... non lo so, sarebbe stato bello vedere anche qualche altro personaggio, magari se Senjoukara si era salvata, se Anekawa si era salvata, se c'era qualche altro personaggio che conoscevamo, perché Ononoki ha detto che ce ne sono molti, anche se non in quest'area, ha detto in quest'area ci sta solamente lei, però insomma, avrei apprezzato magari un episodio in più. A parte questo, vi devo dire, gli ultimi... cioè, i primi due sono tranquilli, gli ultimi due sono tanta roba, cioè, da quando si scopre questa cosa qua, anche se, ripeto, è alla fine un nulla di fatto, perché è semplicemente una linea temporale alternativa, tutto si è risolto, non va ad impattare in nessun modo la storia principale della serie, se non per il rapporto tra Araragi e Shinobu, quindi, eh, sì, non è troppo, troppo, troppo utile dal punto di vista della storia, ma è sicuramente molto bella questa parte qua, quindi, il finale è molto bello, mi è dispiaciuto veramente tanto quando hanno ammazzato la Shinobu di questa linea alternativa, che non è riuscita neanche a suicidarsi perché è troppo potente, veramente che roba triste, che roba molto triste. Oddio, se in giocara da bambina stava parecchio male ed era stata pure operata, non mi ricordo, oddio, infatti, non, cioè, mi ricordo che avevano detto questa cosa, ma non ci avevo pensato che poteva, che stava molto male in quel periodo. Stava cercando Araragi e sappiamo che il giorno 21 agosto dopo incontrerà Nekawa, ok, mi ricordo, mi ricordo che incontrerà Nekawa il giorno dopo, mentre Araragi è scomparso. Questo qua l'abbiamo già letto, per me questo è il primo arco di Monogatari che annoia proprio zero. No, sono stato io che, cioè, in generale stasera sono un po' stanco, però no, è sicuramente un bel arco questo qui, anche se non è troppo, troppo, troppo utile, ma molto, molto bello, bei colpi di scena, anche cosa che non ti aspetti. Pure questa parte nel finale, guarda, il finale è clamoroso, cioè il finale, guarda, non dico da dieci, ma nove qualcosa come voto. Questo episodio finale è molto figo, c'ha molte scene belle, dalla spiegazione di Oshino all'inizio, questa scena in cui loro due vanno ad affrontare la Shinobu cresciuta, la parte, c'è la Shinobu di questa linea temporale, la parte in cui la incontrano e si parlano, è molto bello, molto bello, quindi sì, questo episodio merita sicuramente più di nove se gli dovessi dare un voto. Per riassumere un po' questo arco narrativo, che voto gli diamo? Che voto gli date a questo arco qua? Allora, io vi direi, probabilmente meglio dello scorso, anche se comunque pure lo scorso mi ha sicuramente soddisfatto, però questo qua può essere considerato leggermente meglio, dai. Allora, allo scorso arco avevo dato un 8+, a questo arco quanto gli dovremmo dare? Un 9-? 8- al primo episodio, 8- al secondo episodio, 8- al terzo episodio, sì, secondo me un 9- è onesto, 9- è onestissimo. Lo stesso voto del gatto su... Ci devo pensare, di sicuro è meglio dello scorso, di sicuro è meglio dello scorso, però non so se mi ha colpito così tanto da dargli 9 pieno a questo arco qui, perché ripeto che i primi due episodi non è che gli darei chissà che voto, poi per carità probabilmente se l'avessi visto per la prima volta mi avrebbe pure fatto più effetto la cosa del viaggio nel tempo, la sapevo già, quindi non è che mi ha colpito più di tanto. No, il vostro voto è più di 9, il vostro voto è addirittura un 9 e più. Non lo so, glielo diamo sto... Sto 9 pieno a questo arco? Allora, io sono abbastanza sicuro che ci sono archi migliori di questo e che questo qua non si merita proprio il voto più alto, cioè... Forse 9 è un po' azzardato, però per adesso non sapendo che voto dargli diamogli sto 9. Cioè, sono un po' indeciso, posso dirvi, sono un po' indeciso, ma diamogli sto 9. Non lo so, non so se mi ha soddisfatto al punto da dare 9. Forse mi aspettavo un episodio in più, un qualcosa in più, non lo so, non lo so. Però... Di sicuro 9 meno, di sicuro, di sicuro. Poi sul 9 più diamogli pure 9, cioè diamogli 9, diamogli 9. Ok, allora, tanto dobbiamo solamente dare il voto a... Chocolate Insonnia. Mi sono scordato di dare il voto a Chocolate Insonnia. Può darsi. Allora, comunque, l'opening di Anekawa non è male. Risentiamola, risentiamola perché c'ho bisogno. Ok, questa qua mi piaceva un botto di... La preferisco rispetto a quella di Maioi. Non come canzone, ma come visual è veramente clamorosa. Molto carina con i gatti. Vi direi, vi direi. Chocolate Insonnia, Sugar Sweet Nightmare? No, è meglio, è meglio Sugar Sweet. Sì, 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 allora famo così. Questa qua, Chocolate è probabilmente una delle peggiori. Famo così. E Happy Bite a sto punto meglio di quella di Kanbaru. Ambivalent World. Zero, zero, no, la peggiore. Non mi piace Ambivalent World. Ok, per riassumere, quindi, abbiamo Renai al primo posto, Platinum al secondo, Futakome al terzo, Perfect al quarto, Cari Amici al quinto, Staple Staple al sesto, Marshmallow Justice al settimo, Sugar Sweet all ottavo, Chocolate Insonnia al nono, al decimo Happy Bite, all'undicesimo Ambivalent World. Non ho modo per creare altre cose, quindi, ecco, facciamo così. Così è più facile da capire, poi sistemerò anche le altre, quando dovremo aggiungere altri opening. Queste qua invece sono le ending, queste qua sono le ending che abbiamo avuto fino ad ora. Ah, ci sta anche la ending, è vero, è vero, che mi sono scordato di mettere. Second Season Ending 1. Allora, Second Season Ending 1, meglio di Nekomono Katara. In realtà sai cosa, le ending, posso dirvelo, sono praticamente ininfluenti, cioè le prime due sono le migliori, le altre sono tutte molto insignificanti, quindi per adesso lasciamole qua, non mi interessa arrancarle in maniera migliore. Cioè, le prime due sono molto belle, poi le altre tre non mi dicono niente. di Nekomono Katara. E per fare!